si si tranquilli guarda sto finendo il backup del branch di new york 5 minuti e sono pronto a partire già il casco qua quindi via se il problema sarà una figata ci diretteremo un casino alle grande come al solito via moto aspetta un secondo mi sta arrivando una chiamata ok fine ok good luck see you later so yeah i mean i can't say no it's super important oh no no wait a minute actually we just deploy riverbed granite in the branch office in paris i can do it right here from my data center in five minutes yeah don't worry we're gonna do it see you in five minutes bye bye so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.